Non è giustificabile, dobbiamo dirlo a chiare lettere, che c'è una responsabilità delle istituzioni, nessuno ha la coscienza purita, anche perché dopo la morte di Antonio Giglio e dopo la morte di Fortuna ad oggi nulla è cambiato. Ci sono ancora tantissimi bambini in pericolo, ci sono numerosissimi bambini ancora violentati, non solo fisicamente, ma anche dal punto di vista psichico, che vivono in condizioni gravissime, vivono nell'inferno. Noi chiederemo anche al Presidente del Tribunale dei Minori di creare una task force di specialisti, non nel luogo ma che vengono da fuori, per valutare e curare tutti i bambini, perché non è possibile lasciare morire così la nuova generazione, non è possibile violentare il futuro, non è possibile che degli orchidi e mostri possano rubare l'innocenza dei bambini. La situazione gravissima è quella di Fortuna e di Antonio, è solo la punta dell'iceberg.